da dove nasce questa mia ventesima pubblicazione quindi the fashion of landscape and the nobility of art nasce dal desiderio appunto di sentirmi cittadino della mia toscana e della mia pistoia quindi 25 scatti realizzati durante il lockdown proprio a pistoia in diurna e notturna esclusivamente con il drone dove ho voluto proprio sentire l'arte respirare da questo il mio concetto il mio scopo e poi naturalmente a giro per la toscana senza dimenticare le nostre grandi realtà culturali turistiche e artistiche soprattutto come firenze come siena monterigioni san giovignano pisa e così via e naturalmente la conclusione non poteva che essere nel cuore verde di pistoia quindi con due immagini scartate nei vivai giorgio tesi sono state anche appunto l'editore di questo mio volume ed una rosa una rosa d'autore di rose barri grazie 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 grazie